Giuseppe Semeraro, segretario dell'Associazione Città del Crocifisso, ma nativo di Talsano, una vita legata a Talsano, alle sue tradizioni. Parliamo dell'evento di questa sera che lei ha vissuto con partecipazione, perché poi Talsano è la sua terra. Questo presepe dell'attesa è un evento importante per la nostra comunità, per la comunità del santuario, ma direi anche per tutta la comunità di Talsano. Don Pasquale Laporta l'ha voluto ripresentare e quest'anno dare un tema, quello dei cinque continenti. Abbiamo visto i cinque continenti che sono stati rappresentati dai veri protagonisti, che sono i membri attivi di questa comunità, un viaggio tra sapori, musica e colore per prepararci bene a Natale. Ecco, Semeraro, è davvero bello vivere questi eventi, eventi che vedono insieme il mondo dell'associazionismo, il mondo delle istituzioni e vedere la partecipazione popolare. Gli cittadini riscoprono certi valori. Sì, questa sera abbiamo avuto anche il piacere di avere la visita di alcuni sindaci e amici con cui ho l'onore di collaborare. Abbiamo visto il sindaco di Torricella, il consiglio regionale Giuseppe Turco, il sindaco di Montegliasi, gli assessori del Comune di Leporano, Lotte e Pagano. Tra l'altro sono partner del progetto Natale in Paradiso offerto dalla Proloco di Leporano. Ecco, questo interscambio culturale rafforza non solo l'amicizia tra i territori, ma una collaborazione di promozione culturale che fa sì che i nostri territori abbiano uno sviluppo concreto di promozione, ma anche di realizzazione di quei valori che Natale rappresenta. L'associazione Città del Crocifisso è una fucina di iniziative. Cosa bolle in pentola? Annunciamo gli eventi più vicini, più imminenti e poi anche, così, qualche anticipazione per altre manifestazioni. L'associazione Città del Crocifisso è una realtà importante del panorama nazionale. Rai chiude 24 comuni che rappresentano 5 regioni dell'Italia del Sud. La Puglia la fa da padrone con 8 comuni, ma poi abbiamo la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e Galtelli in Sardegna. Ormai è un percorso di devozione e di promozione. Promuoviamo le nostre comunità intorno al patrocino del crocifisso, ma valorizziamo tutto ciò che le comunità rappresentano. Abbiamo fatto i prodotti, abbiamo fatto un progetto che si chiama Le vie delle eccellenze, le peculiarità storico-ambientalistiche-culturali, abbiamo fatto dei convegni nazionali, siamo stati ricevuti più volte le varie delegazioni, sia da Papa Benedetto XVI che da Papa Francesco. In procinto immediato abbiamo, giorno 30 dicembre, l'Aino Borgo, qui un paesino tra la Basilicata e la Calabria, dove vivremo la nostra assemblea annuale per programmare gli eventi del 2018, l'occasione anche per scambiarci gli auguri e per presentare quest'ultimo comune che ha aderito proprio qualche mese fa, che sottoscriverà il protocollo di adesione. Un altro comune che entra in questa associazione, in questo percorso grande che intorno al crocifisso rappresenta i valori europei e universali a cui tutti ci ispiriamo.